Ciao a tutti, oggi nuovo video, video parlato e vi parliamo di come sostituire le uova in più di 10 metodi. Il primo metodo, ed è forse quello più famoso soprattutto nell'ultimo periodo, è quello di aggiungere i semi di lino. Come sapete i semi di lino a contatto con dei liquidi rilasciano una sorta di gel, proprio una gelatina. E questa gelatina aiuta a legare il composto e in cottura a renderlo meno compatto, non compatto, quanto più appiccicoso, che è un po' il problema delle torte vegan. Quindi potete aggiungere i semi di lino tritati o frullati con un macinino ancora meglio. Come quantità potete aggiungere circa due cucchiaini o anche un cucchiaio abbastanza colmo su 250 g di farina. Diciamo che è una dose orientativa, se ne mettete un po' di più, se ne mettete un po' di meno, non succede assolutamente nulla. Poi un altro metodo per le torte è forse quello che secondo me funziona meglio in assoluto, anche se poi ha dei risvolti negativi, ovvero le banane. Ecco, le banane danno davvero una consistenza poi alla torta che è molto 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 simile ad una torta fatta con le uova. Penso al banana bread, ma penso in generale a tutte quante le torte fatte con la purea di banana hanno davvero una consistenza gommosa, molto morbida, molto compatta, per niente appiccicosa poi in bocca. E sì, secondo me è il metodo migliore, però di contro rilasciano una volta in cottura un odore e un sapore che appunto sa di banana. Quindi non tutti possono amarlo, si può tamponare un po' questo problema, fra virgolette, perché magari può anche piacere come sapore, però si può tamponare un po' con del cioccolato, del cacao, quindi fare delle torte al cioccolato e al cacao, che quindi vanno a smorzare un po' l'odore forte, il sapore molto forte della banana. Un altro metodo che potete utilizzare è quello di aggiungere il cioccolato fuso al vostro impasto, se dovete fare ovviamente delle torte al cioccolato. Come saprete il cioccolato, una volta che la torta si sarà raffreddata, magari la potete anche mettere in frigo, come avviene quando è al naturale, si rassoda di nuovo, quindi questo aiuterà la torta ad essere più compatta, meno sbriciolosa ed è davvero un valido aiuto, quindi provateci e magari fate riposare la torta in frigo una notte, e vedrete poi che il cioccolato essendosi rassodato avrà rassodato anche tutta quanta la torta. Un'altra cosa che potete fare è quella di utilizzare farine con più glutine, quindi delle farine abbastanza forti, basta che leggete l'etichetta delle farine, l'etichetta nutrizionale, la tabella nutrizionale, non l'etichetta, prevedere appunto una farina abbastanza proteica, magari compratene una che abbia almeno 11-12 grammi di proteine, non 8 o 9 perché sarebbe molto debole. Il glutine a contatto con l'acqua stringe davvero tantissimo, una volta stimolato, una volta che voi andate a impastare, lo attivate, inizia a fare il suo compito, ovvero quello di ritirarsi fra mille virgolette, non è giustissimo come termine, però vi rende un pochino l'idea. Non vorrei che qualche esperto di panificazione non ridisse, però orientativamente è questo quello che succede, quindi utilizzare una farina molto forte con parecchio glutine può aiutare. Un altro consiglio che ci sentiamo di darvi per le torte vegan è quello di utilizzare meno liquidi, quindi l'uovo è vero che è un liquido, quindi quando andate ad aggiungere in una torta le uova, aggiungete comunque dei liquidi, quindi non pensate che se non metto le uova devo compensare il loro peso in liquido, questo è sbagliato, anzi fare degli impasti troppo liquidi senza uova va a danneggiare un pochino la torta, perché poi in forno faranno molta più difficoltà a cuocere e asciugarsi all'interno, quindi una volta che si saranno raffreddate rimarranno comunque sempre troppo appiccicose. Un altro consiglio, direi l'ultimo per quanto riguarda le torte, è quello di utilizzare il latte di soia. Utilizzare il latte di soia perché all'interno ha la licitina, la licitina è un emulsionante naturale ovviamente e aiuta tantissimo perché aiuta a legare molto 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 bene il composto, quindi utilizzare il latte di soia sicuramente aiuta. Passiamo quindi al salato, ad esempio se dovessimo preparare delle polpette, il nostro consiglio è quello di abbinare sempre magari delle patate schiacciate, anche soltanto con una forchetta, con del pane grattugiato o della farina. Mi raccomando per il pane grattugiato e la farina non aggiungetene troppo, perché in entrambi i casi potreste seccare un pochino le polpette, quindi mettetene un po' alla volta, se decidete di mettere il pane grattugiato mettetene un pochino, mescolate e vedete quando arriva la consistenza giusta, aspettando qualche minuto, in modo da dare al tempo al pane di assorbire bene i liquidi. Per la farina mettetene davvero poca, quindi uno o due cucchiai circa sono quasi sempre sufficienti, perché la farina stringe poi davvero tantissimo a contatto con i liquidi, quindi se ne mettete troppa vi assicuro che diventano molto molto dure le polpettine. Infine, oltre alle patate, al pane grattugiato e alla farina, il nostro consiglio è quello di mettere del tofu tritato oppure della ricotta, se non dovete farle vegan ma volete semplicemente eliminare le uova. Sia il tofu che la ricotta vanno ad ammorbidire molto bene l'impasto, quindi anche abbinate agli ingredienti che vi ho detto prima vanno benissimo e le rendono molto morbide all'interno e comunque aiutano a legare ed è un ottimo metodo se volete fare delle polpettine morbide, leggere e appunto non troppo pesanti. Qualche tempo fa impazzava su internet il metodo delle meringhe vegan. Io ero molto molto scettica all'inizio perché non mi convincevano granché, poi per curiosità le ho provate e devo dire che sono venute molto bene, anzi vi dirò un segreto. Prima, quando non mi importava moltissimo di mangiare sano, le meringhe a me piacevano tantissimo e cercavo di farle in tutti i modi, possibile e immaginabile e mai mi venivano fuori. Quindi alla fine mi mandavo queste meringhe mezzo sciolte o mezzo sbruciacchiate ed era un continuo, mi ricordo che quando ero ragazzina provavo davvero tutte le settimane una nuova ricetta delle meringhe e non mi venivano mai. Qualche tempo fa ho provato queste vegan e devo dire che sono venute benissimo. L'unica pecca è che si ammorbidiscono molto facilmente, quindi non le riuscite a conservare come le meringhe normali, però per un dolcetto consumato il giorno stesso vanno benissimo, sono molto carine, poi magari le potete colorare con dei coloranti naturali, insomma sono davvero molto allegre e vengono preparate con questa magica acqua faba che altro non è che l'acqua di cottura dei ceci, che davvero magicamente con il frullino elettrico si monta proprio come fossero albumi. Quando l'ho fatta per la prima volta non ci credevo, ma vi giuro si monta a neve fermissima, quindi provateci, sono davvero molto molto carine da preparare e è una cosa molto simpatica. Magari se avete dei bambini vi potete divertire con loro. Per la spennellatura, quindi penso a calzoni, torte salate, insomma tutte le preparazioni che hanno bisogno sopra di una doratura che soltanto l'uovo potrebbe dare, potete utilizzare un metodo semplicissimo e molto valido. Mettete in una tazzina un pochino di olio, olio d'oliva, semplicissimo, e andate ad aggiungere o un pochino di concentrato di pomodoro o un pochino di curcuma. Poi andate a spennellare sopra il vostro calzone o la vostra torta salata e poi in forno si dorirà e darà questo aspetto molto molto più goloso e molto più bello. Quindi provateci! Infine, ultimo metodo per sostituire le uova nella maionese è quello di utilizzare qua il latte di soia, l'avevamo già detto nelle torte, però anche in questo caso è utilissimo. Infatti, se provate a fare la maionese con il latte vaccino, il latte di riso, ovviamente senza mettere le uova, avrete qualche problema. Quindi potrebbe venire, ma rimarrà sempre molto più liquida e non avrà mai la consistenza proprio della maionese. Invece con il latte di soia viene perfetta. Quindi provateci, trovate la ricetta della maionese sul nostro canale, io magari ve la linko nelle schede e nella descrizione perché è una ricettina fantastica. Ogni volta che la faccio, tutti quanti mi fanno i complimenti, io proprio mi gongolo nel dire sì, è la mia maionese senza uova. Tutti davvero senza uova, è buonissima, è leggerissima. È davvero molto molto carina come ricetta. Quindi se non l'avete ancora fatta, provatela perché non vi deluderà. Quindi questi sono i nostri metodi per sostituire le uova in più episodi, diciamo, in più preparazioni. Come sempre, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, soprattutto vi sia stato utile e soprattutto fateci sapere se voi avete qualche altro metodo per sostituire le uova, magari lasciandoci un commento qua sotto. Sono molto curiosa di sapere cosa fate voi a casa e se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!